L'artista esistenzialista è un video molto significativo, molto introspettivo, fa riflettere tanto il silenzio, il silenzio più che altro una doppia quartina sul silenzio, il potere del silenzio, l'introspettività che c'è dietro il silenzio, l'intimismo che crea il silenzio, il silenzio che per certi versi ci aiuta nelle scelte future, scelte dolorose, il silenzio che per certi versi mette un momento di comunione, anche di condivisione, di socializzazione, sembra un attimino una contraddizione ma non lo è, credete, ma anche contro la guerra, ma vediamo un attimino assieme queste due quartine sul silenzio. Il silenzio dà colore alle emozioni, il silenzio è coscienza unica e non dà spazio a contraddizioni, il silenzio incrementa le abilità psichiche, il silenzio si nutre di latenti sensazioni oniriche, Il silenzio frantuma, urla, guerra, il silenzio non parla ma corre, il silenzio unisce e accoglie, il silenzio ci nutre come l'albero fa con le foglie. Quindi, ripeto, c'è tanta riflessione profonda su ciò che è il silenzio perché guardate le emozioni a livello interiorizzato, profondo, prendono colore, prendono forma attraverso il silenzio. Il silenzio è un momento catartico, tremendamente importante, il silenzio consapevolizzo, quindi ci dà una coscienza, una coscienza che è una coscienza globale, una coscienza unica e quindi non c'è alcuna contraddizione, c'è un'unione profonda. Il silenzio non fa che aumentare le abilità psichiche, come per esempio nel silenzio c'è un maggiore livello di introspezione e anche ci possono essere delle reali possibilità di amplificare la telecinese, quello che è i comandi a distanza tra le persone. Quindi un unico pensiero comune. Il silenzio può tranquillamente nutrirsi, cresce, si nutre appunto di sensazioni oniriche del sogno, tramite il sogno. Secondo me in quel momento anche per certi versi un galleggiare da una dimensione all'altra riusciamo per certi versi nel silenzio anche a ritrovare noi stessi, a capire un po' di cose, diciamo, del nostro io più profondo. Il silenzio, stare in silenzio tutti assieme, tante persone, milioni di persone, tutti in comune, ci permette di frantumare le urla, frantumare le urla, le guerre, i colpi di fucile, mortaio, i cingoli dei carri armati e quant'altro. Il silenzio non parla, però sicuramente corre, corre tanto e molto più veloce delle parole. Tante volte le parole sono un giudizievole, nel senso che si punte il dito su persone che non conosciamo, delle volte anche una parola può essere una spada e può tagliare e fare davvero male. Io credo che il silenzio ci unisce tutti in una sola forma mentis e quindi è un elemento determinante di accoglienza, quindi ci fa stare bene, ci fa stare tranquilli e ci permette, ripeto, tramite questa unione univoca di riflettere e anche oltremodo. Il silenzio ci permette, ripeto, comunque anche di, un po' come prima, di nutrirci, di crescere, di metabolizzare anche delle sofferenze, per esempio come, un po' come l'albero fa con le foglie, dà un nutrimento, dà nuova linf e attraverso quei momenti che reputo determinanti, importanti, catartici, possiamo crescere e migliorarci. L'artista esistenzialista, buona notte a tutti.